picchetto con gambe disponibile in due misure 150 e 200 cm profilo centrale 30 per 30 dotato di gambe stabilizzatrici fissate al picchetto tramite monoblocchi fresati in alluminio e viteria in acciaio inox le gambe frontali stabilizzatrici in alluminio tubolare con diametro da 16 mm ed un'apertura totale che può comunque essere limitata e bloccata grazie all'utilizzo di kit blocca gambe ad entrambi i modelli possono essere comunque smontate le gambe ed utilizzati all'evenienza come picchetti semplici da 150 e 200 cm i fori lungo l'asse centrale frontale servono al fissaggio dei jolly per pescare con monocanna inoltre consentono fissaggio del triangolino porta accessori mezza altezza oppure il fissaggio delle staffe doppia canna per la trasformazione in tripode le gambe frontali oltre a fungere da stabilizzatore sono fondamentali per configurare il picchetto con accessori frontali come barra standi travi appoggia canne basso astina segnalatori da boccata ed altri componenti prodotto nella colorazione basic o delete disponibile nelle varie colorazioni